Ciao a tutti amici di CDK, qui la Watsaskal che vi parla e vi dà il benvenuto, nel video del 7 settembre dedicato ai giochi in uscita, giochi gratis e giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming, oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti, i link saranno tutti quanti iscritti in descrizione. E nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il primissimo gioco gratis che presentiamo è Free2Play su Ubisoft e Anno 1800, che sicuramente conoscete se vi piacciono comunque i giochi di strategia e di management, quindi assolutamente consigliato di giocarlo perché davvero merita un sacco, quindi avete ancora pochi giorni di tempo per giocarlo e magari in un futuro comprarlo se vi è piaciuto. E invece gratis su Microsoft questa volta abbiamo un craft doppio che sembra essere un gioco molto carino che avevo già visto ieri, avevo visto un po' di gameplay e un po' di trailer e sembra essere comunque un gioco molto di esplorazione e anche di collezione di sopravvivenza, quindi è molto consigliato di provarlo e di giocarlo. E invece gratis perché al lavoramento al PlayStation Plus stanno andando Overcooked All You Can Eat, la versione unica per PS5, quindi assolutamente consigliato di giocarlo perché la serie di Overcooked è tanta roba, io li adorano a fallire. Poi c'è il nuovo capitolo che dovete assolutamente provare e magari giocare in compagnia con i vostri amici. E invece gratis su Steam vi ricordiamo che c'è anche Splitgate che se non conoscete è un gioco FPS in prima persona da giocare ovviamente contro altri giocatori, quindi nel caso potete giocarlo anche online con i vostri amici. Quindi consigliatissimo perché un sacco di persone ci stanno giocando e si stanno infognando completamente. E invece per i giochi in uscita il 10 settembre uscirà Tales of Arise, che sembra essere un gioco secondo me di combattimento però molto in stile giapponese secondo me. E semmai essere davvero strabello e interessante da provare, quindi assolutamente consigliato di tenere d'occhio anche perché già adesso sul nostro sito è super scontato. E invece sempre il 10 settembre uscirà un gioco che io voglio tanto comprare e molto probabilmente porterò anche su Twitch con voi. Ed è Lost in Random, che è letteralmente un gioco di avventure e di combattimento in cui tutto è letteralmente random e quindi semmai essere molto carino. Quindi consigliato di, nel caso quel giorno, anche voi comprarlo e giocarlo. E invece sempre il 10 settembre uscirà anche NBA 2022, quindi il nuovo capitolo della serie di giochi a tema palacanestro. Quindi assolutamente è un gioco sportivo, molto realistico e davvero strabello. Quindi se mi piacciono i giochi sportivi e in generale la palacanestro consigliato di giocarlo perché già adesso sul nostro sito è super scontato. Quindi non perdetelo quel giorno. E invece il 14 settembre uscirà Deathloop, che è un gioco che sta facendo parlare un po' di persone. La community è molto interessante e sembra essere un gioco FPS, è una persona molto particolare. Però vi consiglio di tenerlo d'occhio perché sembra essere molto interessante, soprattutto per il prezzo. Perché già adesso è scontatissimo sul nostro sito, quindi non perdetelo. E invece per i giochi super scontati abbiamo 10€ con lo sconto del 71%. Abbiamo Gridfall, che è anche qui un gioco molto bellino, che è di combattimento molto anche RPG fantasy e se non sbaglio è anche online. Quindi è assolutamente consigliato di tenerlo d'occhio e di giocarlo perché a 10€ è veramente un prezzo stracciato. E invece altro giocone molto particolare è anche Quest Hunter, che costa poco meno di 4€, che ha uno stile grafico anche un po' cartunesco. Però mi interessa molto perché sembra essere di esplorazione e di sopravvivenza e a me interessa davvero tanto. Quindi se piace anche a voi mi raccomando, compratelo al nostro sito perché è super scontato dell'88%. E invece altro giocone che potete comprare se magari volete giocare a qualcosa in periodo di Halloween è Outlast 2, che costa solo 2€ e 30€. Veramente un prezzo stracciato al 91%, non potete perderlo. Quindi è assolutamente consigliato di comprarlo e di giocarlo magari in periodo proprio di Halloween. E invece l'ultimo ma non meno importante abbiamo Blood Bowl 2. Ha neanche 1€ scontato al 95% e è un gioco di strategie attorni molto particolari e irriverente. Quindi è assolutamente consigliato di comprarlo e di giocarlo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi. Io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima presentazione dei giochi. Oppure vi aspetto sul mio canale Twitch e sui miei social. Alla prossima, ciao ciao!